Magnifico Rettore, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, Personale Tecnico, Amministrativo, Bibliotecario e CEL, Istituzioni Civili, Militari e Religiose, Docenti e colleghi studenti qui presenti, porto con immenso piacere i saluti di tutta la comunità studentesca dell'Università degli Studi di Perugia, che rappresento in qualità di Presidente del Consiglio degli Studenti. Rivolgo un saluto e un sincero benvenuto al Presidente del Parlamento Europeo, l'Onorevole Antonio Tajani, e ai magnifici Rettori dei diversi Atenei italiani oggi qui presenti. Sono particolarmente commossa di poter essere qui oggi per tutti voi la voce degli studenti e delle studentesse del nostro Ateneo per il secondo anno consecutivo. Si potrebbe pensare che sia più facile affrontare questa platea ha superato l'impatto della prima volta, ma stamattina porto con me un senso di responsabilità maggiore, dovuto all'impegno costante e faticoso che ha caratterizzato i mesi trascorsi come rappresentante, i quali mi hanno dato l'opportunità non solo di accrescere la mia formazione individuale, ma soprattutto di guardare le mille contraddizioni della mia generazione da un'angolazione diversa. L'angolazione di chi prova con umiltà ad essere portavoce di una bellissima comunità studentesca come quella Umbra. Rappresentare qualcuno è una sfida che va accolta giorno dopo giorno, che insegna tanto sulle forze e le fragilità di ognuno di noi. Insegna soprattutto ad osservare e capire più da vicino chi si sta rappresentando, cercando di interpretarne i bisogni e approcciandosi a questi con dolcezza e fermezza allo stesso tempo. Sono convinta che se l'Università degli Studi di Perugia sia protagonista di una crescita è anche grazie al lavoro dei rappresentanti, che si sono fatti carico di portare, non con poca fatica, davanti all'amministrazione le istanze degli studenti e delle studentesse, contribuendo in modo decisivo a rendere la nostra Università più libera, più accessibile e più rispettosa delle diverse sensibilità che la animano. Per tutte queste ragioni non si può che guardare all'esperienza della rappresentanza studentesca come a un'immensa opportunità che apre una finestra sul mondo da una prospettiva unica. Ed è proprio il panorama che osservo quotidianamente da questa finestra che oggi voglio provare a descrivere e condividere con tutti voi. Un panorama per alcuni aspetti purtroppo contorto, che vede protagonista indiscussa la mia generazione, appellata in ogni modo nel corso degli anni. Una generazione ciusi, di bamboccioni, che vogliono mangiare con la cultura ma con la cultura non si mangia, nulla facenti, poco preparati, che sanno la teoria ma non sanno la pratica, che hanno troppa poca esperienza e alcuni addirittura è meglio non averli tra i piedi. Hanno preferito chiamarci così, mentre la precarizzazione ci impedisce di realizzarci a pieno, negli studi prima e nel mondo del lavoro poi. Anche noi abbiamo voglia di andare a vivere da soli, di raggiungere una nostra indipendenza senza gravare sulle spalle dei nostri familiari. Ma tutti gli interventi sul lavoro ci hanno messi nella condizione, al massimo, di aspirare ad essere pagati a suon di voucher. E allora, forse, più che una generazione di bamboccioni, mi pare di vedere ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, che fanno fatica a trovare una loro precisa collocazione nel complesso scenario politico, economico e sociale. E tutto questo non si riferisce solo all'Italia, ma è un quadro che possiamo evincere con caratteristiche analoghe anche nella nostra casa comune, l'Europa. Quando venne introdotto l'euro come moneta unica nel 2002, io avevo solo otto anni. Ricordo poco di quei momenti, come è logico che sia. Ricordo, per esempio, gli euro convertitori tascabili. Ricordo mia nonna che diceva che alla fine un euro erano duemila lire, più o meno. E ogni tanto, anacronisticamente, lo dice ancora. Ricordo, seppur in modo fuscato, un entusiasmo contagioso che coinvolgeva anche i più piccini come me. Entusiasmo che è cresciuto nel tempo perché forse davvero, per la prima volta, stavamo abbattendo le nostre barriere. Si stava creando una grandissima rete di persone che avevano voglia di avvicinarsi, di conoscersi e di contaminarsi vicendevolmente, arricchendosi come non avevano mai fatto. L'euro appariva il simbolo di unione per una comunità che finalmente poteva sentirsi tale, una comunità che con coraggio sceglieva di proseguire il suo cammino verso la costruzione di una cittadinanza collettiva fondata sulla libera circolazione di idee e persone. Purtroppo, però, dobbiamo constatare come nel tempo quell'entusiasmo si è andato scemando. Prova a immaginare quale futuro possa avere una comunità come quella europea che, dopo essersi aperta in modo definitivo quindici anni fa, oggi invece, per certi versi, sembra volersi richiudere innalzando barriere. Io vengo dalla Sicilia, una terra che per tradizione, ma anche per circostanze geografiche, conosce bene il significato dell'accoglienza. Ecco perché sogno una madre Europa che sia in grado di allargare le braccia, senza distinzioni né restrizioni. Perché oltre ai muri di cemento o ai recinti di filo spinato, ciò che dobbiamo davvero abbattere sono le frontiere della nostra mente, quelle che ancora nel 2017, mentre lo dico, mi sembra paradossale, non ci permettono di credere che le differenze siano un valore aggiunto di cui far tesoro. E per abbattere tali frontiere, prima di tutto, dobbiamo fare i conti con le nostre paure, le stesse su cui preferisce far leva chi non ha progetti e risposte da offrirci, e sconfiggerle quelle paure, una volta per tutte, con il buon senso e la cultura. Credo che una delle armi più potenti che abbiamo in tal senso sia la vocazione internazionale dei nostri Atenei e i relativi progetti di mobilità che la supportano. Connettersi realmente con le diverse realtà europee durante il periodo di studi ci permette, senza ombra di dubbio, di allargare i nostri orizzonti di vita e professionali. E per questo l'internazionalizzazione dovrà essere sempre più incentivata e sostenuta. Da questo punto di vista sicuramente l'Università di Perugia ha fatto diversi passi avanti ed è auspicabile proseguire con determinazione il cammino avviato, per aggiungere un aumento delle borse di mobilità internazionale, potenziare i servizi offerti dal Centro Linguistico d'Ateneo, snellire le procedure burocratiche che spesso confondono e scoraggiano gli studenti, anche in mancanza di un servizio informativo efficiente. Aumentare inoltre l'offerta di double degrees, con l'obiettivo di creare una comodità studentesca europea, per far sì che studiare a Perugia sia come studiare a Parigi. A 30 anni esatti dal debutto del programma Erasmus possiamo dire con un certo orgoglio che tra tutti gli epiteti che ci sono stati attribuiti nel tempo, il più calzante è certamente quello che ci qualifica come la generazione Erasmus, smettendo ogni tipo di sentimento anti-europeista. Recentemente la nostra Ministra dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, Valeria Fedeli, in occasione degli Stati Generali dell'Erasmus, ha affermato, dati alla mano, che l'Erasmus ci fa anche innamorare e che sono circa un milione i bambini figli dei progetti di mobilità internazionale, figli di culture differenti, figli del superamento dei confini, figli dell'Europa. A maggior ragione allora, a lunga vita all'Erasmus. Da quella stessa finestra che si affaccia su un mondo complesso e in costante cambiamento, mi imbatto anche in un'Europa in cui purtroppo è ancora necessario parlare di parità di genere. Attendo con grande impazienza il giorno in cui la parità tra uomo e donna sarà così scontato che sarà superfluo scendere in piazza l'8 marzo. Ma evidentemente quel giorno non è giunto ancora. Di fatti, e di poco tempo fa, la dichiarazione dell'eurodeputato Corwin Mic che afferma con convinzione che è giusto che le donne guadagnino di meno, semplicemente perché meno intelligenti degli uomini. Come prima Presidente donna che ha l'onore e l'onere di rappresentare la totalità degli studenti dell'Università di Perugia, voglio rivolgermi direttamente al Presidente Tajani per chiedergli quando finalmente potremo anche noi sentirci pienamente legittimate in Europa e quando non saremo più costretti ad ascoltare frasi sessiste pronunciate da chi dovrebbe rappresentarci presso l'Europarlamento. Perché un poco Corwin Mic che ha ragione, noi donne siamo più deboli e siamo più deboli ogni volta che qualcuno ci considera una sua proprietà, ogni volta che qualcuno si arroga il diritto di decidere per noi sul nostro corpo, sulla nostra vita e sul nostro futuro. Ecco, mi scuserete se nel raccontarvi ciò che vedo dalla mia finestra vi sarà sembrato che perdessi di vista l'Università, che in realtà acquisisce in questo contesto un ruolo e una funzione sociale di cruciale importanza. I nostri istituti universitari hanno il delicato compito di rivolgersi ad una comunità sfiduciata e apparentemente perduta, di farlo con prontezza e sensibilità, puntando su formazione di qualità e condivisione del sapere, per affermare valori imprescindibili quali il rispetto, la convivenza, lo scambio costruttivo e proficuo di conoscenze ed esperienze. E sono fermamente convinta che solo scegliendo di investire in modo serio sulle nostre università e sul sistema di diritto allo studio potremo incentivare e accelerare questo processo. In Francia uno studente su tre percepisce una borsa di studio, in Germania uno su quattro. In Italia solo poco più dell'8% degli studenti risultava beneficiario di borsa di studio nell'anno 2015-2016, con un calo di più di due punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale calo è certamente dovuto alla recente riforma dell'Ise, la quale ha causato l'esclusione di 36.000 ragazzi e ragazze dall'accesso al diritto allo studio. Le numerose e tempestive denunce lanciate dalle rappresentanze studentesche, anche in seno dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono riuscite solo parzialmente a contenere questo ennesimo danno che ha colpito gli studenti e le famiglie di tutta Italia e con essi le loro speranze di migliorare la propria condizione economica e sociale attraverso lo studio e la cultura. Appaiono purtroppo ancora lontani gli obiettivi fissati da Horizon 2020, in cui il nostro Paese si avvicina sempre più a fatica al raggiungimento del 26% dei laureati tra i 30 e i 34 anni, mentre la media europea si attesta già quasi al 40. Sono 65.000 in meno le iscrizioni all'università su tutto il territorio nazionale in soli dieci anni, a riprova dell'inefficacia delle politiche di austerità a cui è stato sottoposto un settore che in altri Paesi, al contrario, ha visto aumentare i propri finanziamenti con lungimiranza. I dati al Malauria 2016 ci mostrano che solo in questi ultimi anni timidamente l'occupazione dei laureati riprende a salire, restituendo valore e dignità ad un titolo di studio sempre più percepito come spesa anziché come investimento. In questo quadro di certo non roseo, l'Umbria può vantare la copertura del 100% delle borse di studio ed in generale un incremento dei servizi rivolti agli studenti, come la nuova e tanto attesa mensa convenzionata presso il Polo di Medicina, che ha recentemente visto la luce dopo anni di richieste da parte della rappresentanza studentesca, e come a breve per il servizio di mobilità notturna nei fini settimana. Auspico pertanto che gli studenti e le studentesse dell'Umbria possano sempre confermarsi una priorità per le istituzioni locali e che si possa investire sempre di più anche su quelle categorie in condizioni di grave difficoltà economica, affinché l'accesso alla formazione sia sempre garantito e sostenuto anche per quei giovani provenienti da famiglie non abbienti. Ecco perché anche come Consiglio degli studenti abbiamo richiesto che i fondi normalmente destinati alle attività studentesche fossero invece convertiti in borse di studio per studenti meritevoli e in condizioni di gravi difficoltà economiche. Ed ecco perché ci siamo prodigati sin dall'inizio del nostro mandato per una riforma della tassazione che fosse più equa e giusta per tutti gli iscritti del nostro Ateneo, alleggerendo il carico fiscale su quelle fasce che per poche centinaia di euro non percepiscono una borsa di studio. E l'abbiamo fatto lavorando fianco a fianco con l'amministrazione centrale fino all'approvazione delle modifiche da noi proposte. Ho provato a raccontarvi la realtà che io, insieme a tutta la mia generazione, vediamo aprirsi di fronte a noi, osservatori in attesa di divenire le gambe del futuro che immaginiamo, di trasformarci in protagonisti attivi del cambiamento, di quel panorama che finora ho descritto. Ebbene, l'Università ha, per sua stessa natura, il potere ed il compito di ampliare, di estendere il più possibile questo orizzonte, sia in larghezza che in profondità. Ha la possibilità di costruire una prospettiva nuova, in cui la ricchezza delle differenze sia elevata a punto di forza, non solo per fare l'Europa, ma per fare gli europei. Sono tante impegnative le sfide che ci attendono da qui ai prossimi anni e sono certa che sapremo raccoglierle ed affrontarle con il coraggio richiesto. Nella battaglia per l'unità europea è stata ed è tuttora necessaria una concentrazione di pensiero e di volontà, per cogliere le occasioni favorevoli quando si presentano, per affrontare le disfatte quando arrivano, per decidere di continuare quando è necessario. È con questa frase di Altiero Spinelli, tratta dall'Europa non cade dal cielo, pubblicata nel 1960, che vi rinnovo i miei saluti, ringraziandovi per l'attenzione e augurando a tutte e tutti buon anno accademico.